5 4 3 2 1 andiamo 120 alla casa sinistra 3 100 occhio sinistra 6 sul salto lunga 100 destra 5 chiude sull'osso 170 destra 3 meno per sinistra 3 per destra 2 120 stai a destra destra 6 120 destra 3 chiude 2 mossa stai all'interno e destra 5 per sinistra 2 50 alla casa destra 2 chiude 1 gira e attento sinistra 1 taglia poco apre 50 destra 3 sale chiude 2 sinistra 3 molla in curva 90 destra occhio stringe sinistra 4 chiude 3 70 sinistra 4 lunga chiude 3 150 sinistra 6 50 destra 4 50 alla casa sinistra 5 e destra 4 in due tempi sinistra 5 per molla destra 4 apre su fronte stretto salto 70 destra 4 apre 5 250 250 alla casa sinistra 6 sull'asfalto per destra 5 e sinistra 3 per attento destra 1 gira 50 sinistra 4 sinistra 4 destra 4 molla e buca destra 3 apre 100 occhio sinistra 3 lunga lunga e sposta 70 sinistra 4 di nuovo 70 sinistra 4 50 destra 4 lunga chiude 3 lunga lunga attento 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 destra 1 lunga apre 2 buca buca 50 destra 5 per fai molta attenzione qui sinistra 1 apre non tagliare buca attento 70 destra 3 chiude 1 40 molla destra 1 70 destra 3 per sinistra 2 2 tempi destra 3 per sinistra 2 2 sinistra 3 per destra 1 per sinistra 4 70 70 molla destra 2 in fai molta attenzione qui sinistra 1 non tagliare roccia all'esterno destra 2 sudosso e destra 4 per sinistra 1 apre per sinistra 2 in destra 3 sudosso in sinistra 2 apre tieni e sinistra 5 vai 450 andiamo al cartello sinistra 4 meno sale 70 stai al centro sul dosso 220 molla sinistra 2 apre 170 accendo destro in destra 4 sudosso 100 sinistra 5 70 destra 3 apre sudosso 70 sinistra 6 70 destra 6 120 coraggio qui vai accendo sinistro 250 250 accendo destro 250 sinistra 5 70 molla destra 4 chiude 3 3 molla sinistra 4 chiude 1 apre 150 destra 2 occhio che scivola a lui accendo sinistro 4 130 andiamo vai molla all'albero sinistra 3 chiude 2 e sinistra 4 sul pavé 50 fai molta attenzione qui destra 3 sul ponte stretto chiude 1 e dai che quando siamo in giornata non ci ferma nessuno grande grande Grazie.